Sta creando scandalo nel web il fatto che sia uscito fuori il primo testo, il primo pezzo di Taxi B di FSK, lui emblema della trap moderna, quello che urla per intenderci, comunque che fa un genere privo di contenuto. Le FSK sono proprio, per chi come me vuole la musica con contenuti e messaggi, sono il diavolo, però questo non è vero perché io riesco a capire, cioè le FSK sono un po' un'evoluzione della Dark Polo, è un'evoluzione secondo me in meglio, non in peggio, perché Dark Polo sono proprio senza, cioè non avevano niente, ma tra l'altro è uscita la serie su Netflix che a me mi fa pure ridere, cioè Dark Polo sono simpatici, è innegabile che siano veramente simpatici, il problema è chi li prende sul serio, e questo è il discorso, cioè, e quindi tanto mi sono pure rivista un po' la serie perché appunto mi ha fatto ridere, quando devono recitare sono scarsissimi, però è quello che funziona, proprio tutta questa dinamica, e loro FSK a livello di tecnica, a livello visivo, sono una versione secondo me 2.0 della Dark Polo Gang che funziona anche di più, quindi per me non è che sono il diavolo, per me sono solo magari come persone dei coglioni che portano un messaggio sbagliato, che fanno i fenomeni, fanno i presuntuosi, c'è nel delirio di ogni potenza, vabbè sono ragazzi, ok, però io non è che dici voglio attaccare FSK, perché ci sta che invece quel genere piaccia, che tu lo pompi nelle casse e ti spacca anche se non dicono niente, e adesso c'è questa canzone e tutti si sorprendono, ma lui faceva all school, ecco, faccio questo podcast semplicemente per dire, qualunque ragazzo inizia a fare rap, inizia facendo all school, fino a qualche anno fa, infatti la canzone è del 2014, mentre oggi uno che inizia a fare rap, tra parentesi, va dal produttore, c'ha lato tune, mette la base, dice quattro cazzate, è già fatto la canzone moderna, fino a 2014, 2015, inizio 2016, quando un ragazzo iniziava a fare rap, diceva che faccio, inizio voglio fare una canzone, non è che pensi che ci vuoi fare una carriera, all'inizio vuoi fare una canzone per esprimerti, inizi facendo l'old school, tutti l'abbiamo fatta, anche se magari tu si stai già ascoltando la roba moderna, inizi facendo old school perché non ti vuoi sputtanare, perché giustamente vuoi tenere fede nella linea, e comunque, questo non vuol dire che Taxi B venga da quella scuola lì, o sia stato un pioniere ascoltatore del rap, comunque nel 98, 99, cioè comunque è nato in un'epoca in cui l'old school, già quando lui aveva comunque l'età per ascoltare, già era stato sdoganato, già c'era il mainstream a livello rap, quindi è un po' diverso, però, cioè, io non mi sorprendo che ci sia una traccia così, tutto qua, questo volevo dire, cioè, che poi non è che ci spacca più o meno di altri, è la classica traccia old school. Ora, perché poi un ragazzo come Taxi B che inizia con la old school, ti fa la new school più estrema, ti diventa FSK, perché se Taxi B avesse portato quel mood lì per altri due, tre, quattro, cinque, dieci anni, non avremmo mai saputo chi è, perché oggi la old school, il rap, rappare sulla base, senza autotune, rappare su una base boom bap, non è concepibile, punto, non genera click, non interessa, nel momento in cui tu senti il boom bap già hai schippato, e non è un linguaggio che i ragazzi capiscono che vogliono sentire, nel momento in cui senti il boom bap pensa tu, Rosicone. Oh, ci sta, perché comunque il boom bap è stato il cavallo di battaglia dell'hip hop per vent'anni, quindi non è che dici è un problema, ma di più, per trent'anni, quindi non è che dici è un problema, c'è stata la grande modernizzazione, sarebbe come dire dobbiamo vedere i film in bianco e nero, no, però neanche dobbiamo vedere il cinema italiano di merda, ci sta, cioè, ai tempi col cinema in Italia eravamo tra i più importanti al mondo, e questo voglio dire, cioè, ricordiamoci della sacra arte dell'hip hop e facciamo musica moderna, che però sia anche un minimo di spessore e di qualità, si può fare, perché ci sono tanti film moderni che spaccano il culo, cioè, non ti sto a dire che dobbiamo fare, appunto, Metropolis, facciamo Wheel Hunting, che è un film moderno, a colori, col sonoro, ma che è bellissimo, spacca, leggero, leggero su alcune cose, a livello di tematiche, paccutissimo, ecco questo, facciamo i Fight Club, cioè, non è che dici la qualità è per forza nel vecchio, però tutti si stupiscono, ah, Taxi B faceva rap, viene dall'old school e viene dall'hip hop, no, non è che viene dall'hip hop, ha fatto una canzone old school, come tutte le persone che iniziano, tutto qua, cioè, non ci facciamo viaggi che non esistono, questo è il discorso, e ovviamente è stato costretto ad abbandonare quel genere, perché è un genere finito, tutto qua. Poi non ci lamentiamo, però, che ragazzi fanno solo roba moderna, o gente, magari, come i Green, va in major, continua a far rap, ma non se ne incula più nessuno, perché non è più puro come una volta, ma non è neanche moderno, quindi, raga, il rap è rap, c'è stato, oggi non si può ripetere, chi lo vuol fare è libero di farlo, deve farlo, portiamo avanti l'hip hop, facciamolo fatto bene, le metriche, gli incasti, il roba, e via dicendo, però, consapevoli che è un genere che è morto e sepolto, la domanda è, la solita domanda che faccio allo spettatore, quale sarà il nuovo genere di punta, visto che la trap è ormai finita, cioè, non ha più quell'appiglio di prima, siamo nell'anno in cui sono fatti solo remix, ora, che cosa accadrà nel genere musicale nazionale e internazionale dell'hip hop? Cosa accadrà? Questo è quello che mi chiedo. Io non lo so, se qualcuno lo sa, faccia un pezzo e sfondi, perché adesso c'è un buco nel mercato, un buco che va riempito. Cosa accadrà?